Fin dalla nascita ogni essere ricerca il proprio spazio, il desiderio di trovare la giusta dimensione e l'ambizione più grande del genere umano. La ricerca di uno spazio è un percorso che sfocia nelle forme più svariate, a volte caratterizzate da un tocco di follia. Alcuni provano a mettersi in mostra, altri fuggono via, altri ancora cercano un semplice equilibrio, un posto adatto nel quale possano sentirsi in armonia con se stessi. La curiosità spinge l'uomo verso percorsi contenenti moltitudini e desideri, bellezza e sfumature di un assoluto comune. Lo spazio è la fonte di ogni ricerca. Publiemme, gli spazi comunicano.